500 giovanissimi riuniti al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per il 15esimo trofeo Topolino. Specialità scelta la palla a mano, una disciplina completa e poco radicata in Abruzzo. A coinvolgere gli studenti delle scuole abruzzesi ci pensa l'Associazione Ogan di Pescara che con i suoi istruttori offre la possibilità di conoscere questa disciplina e muovere i primi passi al suo interno. Fa sensibilizzare i bambini verso questo sport perché è veramente bello e divertente. È un sport di squadra dove i bambini giocano insieme, si divertono, è facile da praticare perché le regole sono molto semplici. Ci sta una palla piccola che è praticamente facile da prendere un bambino, ci sta gol in palio che è praticamente una cosa più importante. Domenica 14 dicembre si svolgerà il trofeo e spiegano i suoi organizzatori sarà una giornata destinata al divertimento. Senza agonismi, infatti, tutti i ragazzi verranno premiati. L'obiettivo è quello di far vivere loro i valori e le emozioni dello sport sano. Grazie al nostro sindaco abbiamo ricevuto premi di dare a questi bambini, quindi ognun bambino riceverà la medaglia. Il tema di torneo è gioco fair play, che praticamente è un gioco senza vincitori, quindi si gioca per divertirsi, per stare insieme, per imparare il gioco e per annumorarsi soprattutto della palla a mano, che in città, proprio in stato italiano, è poco poco conosciuto e noi ci teniamo molto di farlo valorizzare come sport.